La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Ben ritrovati amici, appuntamento infrasettimanale, si gioca d'anticipo l'Udinese in campo a San Siro contro il Milan anche per cancellare la dolorosissima dell'andata Udinese ancora, targata Ulio Velasquez. Di questo parliamo come sempre con il nostro Guido Gomirato, ben trovato Guido. Ben trovato, ben trovati a tutti. Noi andiamo a ripercorrere una carrellata di risultati, sono tre pareggi e tre pareggi gollosi, permetteteci questo stranissimo aggettivo, con veramente tanti gol. Poi vedremo se il segno X è predominante o meno insieme al nostro Guido o solo se è un incidente casualità in questo caso. Partiamo dal primo anno di Zico, gennaio 1984 finisce 3 a 3 e quell'Udinese va a recuperare il risultato nel segno del Galigno ma soprattutto di Franco Causa. L'avvio del Milan era stato molto positivo con un rigore per atterramento di Battistini da parte di Cattaneo e Baresi che infilava l'angolo giusto dagli 11 metri. I friulani reagiscono ma Zico su punizione non fa troppa paura a Piotti. Sull'altro fronte si fa vedere Blisset e impegna Brini in tuffo. L'Udinese comanda a centrocampo e il Milan appare impacciato, così arriva il pareggio, Virdis appoggia per Zico, niente da fare per i rossoneri. Reagiscono i milanisti, Damiani dal fondo, mette una palla in area, Carotti tenta, poi Verza in girata trova lo spiraglio giusto, è il 2 a 1. Nella ripresa ancora il Milan in contropiede, Damiani supera Brini ma la palla carambola sui due pali e non vuole assolutamente entrare. Crescono intanto gli ospiti anche se Virdis non è sempre molto ben servito in avanti. Oggi Blisset è particolarmente attivo e alla fine riesce ad andare in rete. Testa di Battistini e l'inglese realizza il volo, è il 3 a 1. E qui viene fuori l'esperienza dell'Udinese. Causio alza per Zico, mani di Baresi, Mattei lascia correre e il brasiliano rovescia infilando Piotti. Il Milan si smarrisce, ne approfitta Causio inventando un gran gol. Bella partita, non era il Milan tanto per fare un paragone al Milan di questi ultimi anni, il Milan berlusconiano o il Milan cinese e adesso americano, mi sembra nuovamente italiano perché alla fin fine è così. Era un Milan che era in chiara difficoltà, sappiamo che all'inizio degli anni 80 il Milan per due volte è precipitato in Serie B, una volta spinto dallo scandalo del calcio scommesso e la seconda volta per manchevolezze, chiamiamole tecniche. Quindi due brutte, dolorose cadute, quindi non era un Milan. Era un Milan che cercava di risalire, poi alla fine riuscirà nel suo intento con l'avvento 86-87 di Silvio Berlusconi. E si apre un'altra era. Noi però non andiamo ancora all'86-87, ci trasferiamo di qualche mese, stagione successiva da gennaio passiamo all'autunno. C'è ancora Artuzico ma è un'altra udinese, un pochettino più crepuscolare, anzi decisamente crepuscolare. Però anche in questo caso è pareggio, 2-2 e andando a ottenere un ottimo risultato in casa del Milan, apre Manuel Gerolin, chiude Andrea Carnevale, 2-2. L'avvio di partita è feraginoso, le due squadre si guardano con sospetto come due scolari al primo giorno di scuola e nessuno vuole fare una brutta figura. Il Milan cerca la testa di Hattley, l'udinese ripiede di Zico, che Vinicio fa giocare arretrato, quasi a centrocampo, in una posizione insolita per il brasiliano, il quale viene marcato a zona da Di Bartolomei. L'apprendimento di nuovi moduli si sa rende un po' impacciata, la manovra del Milan, che all'inizio paga un'incertezza di Battistini, il quale lascia via libera Gerolin, pronto a mettere alle spalle di Terraneo. È il quattordicesimo, trascorrono appena sei minuti, il Milan ottiene il pareggio con Virdis, che riceve un bel pallone di Hattley, inglese dopo aver superato l'emozione iniziale, salirà in cattedra per divinire il grande protagonista della partita. Hattley, marcato a fatica da Cattaneo, strappa applausi e consensi al pubblico amico. Sembra di rivedere Pierino Prati, qualcuno esclama in tribuna. In effetti Hattley fa buona impressione, soprattutto per il gioco di testa e le sue grandi progressioni. Prima della fine del primo tempo, l'udinese ha la possibilità di raddoppiare, ma Carnevale si fa anticipare da Bresi a due passi dalla porta di Terraneo. La via di ripresa è tutto di marca milanista, prima Evani, che chiude bene il triangolo con Virdis. Poi la traversa, colpita da Battistini, è andato al cross. E successivamente Verza, che da pochi passi spara sul portiere, precedono l'azione del secondo gol di Hattley. La riete inglese è puntuale nel correggere a rete un cross di Tassotti dopo un bel velo di Virdis. Sembra ormai fatta per il Milan, che trova morale e gioco davanti al suo pubblico. Ma una punizione di Zico ben deviata da Terraneo è il primo avviso che per i friulani la partita non è ancora finita. È la mezz'ora, Miano, subentrato a Selvaggi nella ripresa, serve a Carnevale che mette in rete con una mezza rovesciata. Andrea Carnevale è giovanissimo. Sì, però tu parli di l'Udinese crepuscolare. Sì, è vero, però è vero perché qualcuno si è fatto male, perché qualcuno poi non aveva tanta voglia di giocare, era un po' demotivato. Ma pronti via, l'Udinese pareggia 2-2 a Milano con il Milan di Lidon. Lidon è tornato nella casa madre, prima era giocatore, poi ha fatto anche l'allenatore, ma in seconda e adesso come tecnico. Era pur sempre una squadra che disponeva di Carnevale, di Selvaggi, di Edigno, di Zico, quindi era una squadra che prometteva un campionato, non dico da primi 3-4 posti, ma sicuramente per entrare in UEFA, cioè garantiva di conquistare quell'obiettivo che le era mancato l'anno prima per una serie di circostanze, che adesso non stiamo qui a elencare perché sono diverse le cause. Purtroppo Zico alla seconda giornata si gioca col Milan 2-2, di cui parliamo, si gioca in casa con la Lazio, 5-0 per l'Udinese con la Lazio, tutti che sognano, tutti che si illudono, però proprio con la Lazio Zico nella sua via cruce scade per la prima volta perché ha subito uno stiramento muscolare. Giocherà soltanto 16 partite in quella stagione e a livello di Zico ne avrà fatte sì e no 7. Andiamo avanti invece in questo caso, è l'era di Francesco Guidolini, il 2011 finisce a 4-4, pensate un risultato, 4-4 a Milano, Roboante, ma rimane molto amaro in bocca perché l'Udinese conduce anche prima 3-1, poi 4-3 a pochi spiccioli dalla fine. Alla fine arriva Ibrahimovic ed è 4-4. Batte Robigno, pallone verso Strasser che ci arriva, c'è Patinale di rigore, sinistro! Alto di Pato, prima palla goal importante per il Milan, sui piedi del Papero. Ma in tanti maglia bianconera a saltare dentro, tra cui Zapata, che solissimo gira in porta, non trovando il gol dell'1-0. C'è largo Isla, l'ha vista adesso. Scettonini su Isla, di vicino c'è Abdi, dentro di Natale, palla va per Sanchez, Hiller solo può calciare per la terza volta, col sinistro! Stavolta prende il palo e poi segna, Totò di Natale, in posizione regolare, sesto gol a San Siro, il settimo al Milan, 1-0 per l'Udinese. 30 metri sedo, fa largo per Ibrahimovic, vediamo se inventa lui qualcosa, Ibra controlla, punta Domizzi, ancora Ibrahimovic, va sul destro, che arriva al centro per Pato! Il Papero fa 1-1 all'ultimo istante del primo tempo, Ibra per Pato, pareggia il Milan. Isla verso Di Natale, salza il pallone, riesce comunque a triangolare con l'esterno cileno, il cross di Isla, verso Sanchez, che arriva per primo, è puntuale, all'appuntamento con il gol, del 2-1 per l'Udinese. E perde una bruttissima palla, Sedorf, e Inler lancia Di Natale, contro Bonera, 1-1, Di Natale, in area di rigore, va sul destro, Di Natale, destro! Di Natale! 3-1 per l'Udinese a San Siro, dalla palla persa da Sedorf, l'Udinese adesso dilaga. Prost di Tiago Silva, deviato, autogol, e il Milan rientra in partita, credo benassia. Che propone l'azione per Cassano, a limite dell'area, Cassano dentro per Pato, Pato! Il 3-3, ancora una volta Pato, ancora l'assist di Cassano, il Milan è vivo, e va a pareggiare. C'è Isla da solo completamente, Isla è completamente solo in area di rigore, c'è anche Dennis al centro, ballone per Dennis, incredibile, ha segnato all'Udinese, 4-3, all'89, German Dennis, pazzesco! Bonera morbido, verso Ibra, che sovrasta tutti, per Cassano, palla dentro, ancora per Ibra, è solo Ibra in area, si ferma, Ibra! Ibra vince, 4-4, che gol, ancora l'assist di Cassano, questa partita non finisce mai! ma la partita finisce qui, per le coronarie dei tifosi, e per la voce che non abbiamo più, finisce 4-4! un peccato! Un peccato, una gara rocambolesca, l'Udinese sotto, l'Udinese rimonta, l'Udinese davanti, l'Udinese in mano, la partita, poi, ecco che, San Ibraimovic segna, però, ci sono state delle proteste, non vibranti, ma delle proteste, a mio avviso, giustificate, anche secondo me, perché Ibraimovic aveva commesso fallo, saltando, quindi il gol doveva essere annullato, ma i bianconeri, sai, quando l'arbitro non c'era il VAR, quando l'arbitro decreta il gol al Milan, non torna indietro, ripeto, quella volta non c'era il VAR, per cui, ma è stato un peccato, perché l'Udinese, ha giocato meglio del Milan, che, alla fine, conquisterà lo Scudetto, era un Udinese, stellare, perché era un Udinese, composta da Sanchez, aveva... Ha fatto col tutto l'attacco di Natale, Sanchez, Denis. Sì, ma aveva un bomber di scorta Denis, che poi andrà a far fortuna nell'Atalanta. Io so che i tifosi, dicono, perché non l'abbiamo ottenuto, ma l'Udinese non può ottenere, tanti giocatori, perché non può lasciare fuori, poi, dei giocatori importanti, perché vengono svalutati, l'Udinese ha il dovere sacrosanto, di difendere il proprio patrimonio, se Denis fosse rimasto, non avrebbe poi preso, quei quattrini, non tanti, ma neanche pochi, che gli ha garantito l'Atalanta. Ma poi ci sono anche i giocatori che vogliono giocare, quindi insomma... Io mi ricordo, sono altri che dicono, ma se io non gioco nell'Udinese voglio andare via, questo è evidente, la gente... È normale, la società di calcio, sono gli stessi che vanno messi avanti, portati avanti per la gestione di una qualsiasi azienda economica. Con la differenza che l'azienda economica deve raggiungere, io vendo tot e incasso tanto e cerco di stare a gala, cerco di essere sempre inutile. la società di calcio, gestita come azienda, deve portare avanti due risultati, devo ottenere due risultati in parallelo, quello economico e quello sportivo. C'è verso. Guido, a livello di precedenti ne abbiamo fatto vedere tre pareggi. Sì, però il Milan, il Milan, i pareggi, hai fatto bene a ricordare, perché i pareggi sono frequenti nell'asse Udinese-Milan, sono 32, sono 32 in 87 incontri, quindi sono notevoli, sono 39, le sconfitte dell'Udinese ad opera del Milan, e le vittorie serici, ovvio che il Milan, avendo vinto 39 incontri contro serici, sia decisamente in vantaggio, anche per quanto concerne i gol realizzati, 149 è seconda in questa speciale classifica, dietro la Juventus e dietro la Roma. Guido, doppi ex, così te ne snosciolo tre che mi vengono in mente, Allegri, Giacomini, Montari. Io ti dico, Luigi Bonizzoni, che ha giocato nel Milan, ha allenato il Milan, ha allenato l'Udinese, Gipo Viani, che ha allenato il Milan, ha allenato l'Udinese. Poi andiamo avanti in questo elenco, negli anni 40, Pietro Degano, Degano, tuttora Berlusconi ne parla, perché quando Berlusconi andava ad ammirare con il papà Degano, era un ragazzino, era un grandissimo tifoso, e si era innamorato di questo Degano. C'era Gigi Zorzi, c'era del medico che un'ala sinistra, era un'ala sinistra molto veloce, dotata di buona tecnica, nato a Tavagnaco, ha giocato nell'Udinese prima, poi nel Milan, il centromediano che era Tiglio Galli, nel Udinese, poi nel Milan, era un signor centromediano. Poi dopo andiamo avanti, Amos Mariani, Giancarlo Bacci, Narciso Soldan, il primo vero attaccante dell'Udinese in Serie A, Rinaldi, Rinaldi segnava i gol importanti con l'Udinese, Amleto Frignani ho detto, poi prima ancora Enzo Menegotti, Enzo Menegotti è stato in pratica messo così da parte dal Milan nel 1952, lo diede in cambio per Travaggini, altro doppio ex, che era un Germano Travaggini, che era un centromediano, e aggiunse all'Udinese, mi sembra, 20 milioni di lire, grande affare quindi per l'Udinese. Bigogno ha allenato entrambe le società, come Giacomini, che ha allenato sia il Milan sia l'Udinese, che ha giocato sia nel Milan sia nell'Udinese. L'elenco è molto lungo, perché dopo possiamo andare avanti, la storia diventa inevitabilmente il presente, Birov, Elvec, quelli te li ho lasciati perché erano veramente comodi comodi, Zaccheroni, compagnia bella. Ha avuto giocatori importanti, l'Udinese, l'ultimo è Christian Zapata, che il suo dovere lo ha fatto nel Milan, Iankulowski, come facciamo a dimenticare di Iankulowski, per cui la rosa, non ci sono tantissimi nomi, ad onore il vero, ma ci sono nomi di qualità pesanti, hai detto bene, perché per esempio, non so, Udinese e Genoa sono più doppie ex, non parliamo di Udinese e Inter, ma in questo caso qui hanno lasciato il segno, con una maglia e con l'altra. Amici, noi ci dobbiamo fermare e ci ritroveremo, stesso canale ovviamente, stesso tipo di format, per parlare di un altro match casalingo, dopo quello con il Genoa, un'altra partita da vincere, sulla via della salvezza, ovviamente, sempre insieme al nostro Guido Comirato, grazie Guido per averci accompagnato, grazie a te, grazie a tutti, grazie per i tuoi ricordi, e la tua conoscenza enciclopedica. Amici, ci vediamo presto, buon proseguimento. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi.